ciao eccoci qua come tutti lunedì nel tugurio oggi ti faccio vedere una lavorazione particolare ho fatto questo che è un mazzuolo da scultura utilizzando solo ed esclusivamente lo scalpello obliquo se vuoi vedere come si fa rimani qua nel canale e ti faccio vedere dopo la sigla iscriviti al canale Grazie a tutti 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 Grazie a tutti